La Toscana del Libro è un progetto della provincia di Pisa, nato nel 2007, che finalmente, fortunatamente, si è concretizzato nel 2011 all'interno di questa edizione del Pisa Book Festival. L'idea era quella di realizzare un itinerario turistico-culturale attraverso il libro e quindi mettendo in rete, costituendo un coordinamento dei festival del libro in Toscana. Quindi il primo passo è stato quello di scienzire, di conoscere i festival e il secondo fondamentale è stato quello di averli riuniti tutti intorno a un tavolo e di aver deciso quale sarebbe stato il primo obiettivo, il primo step. Il primo step è stato l'allestimento di uno stand che è qui alle mie spalle e materiale pubblicitario relativo ai vari festival. Quindi abbiamo realizzato un roll-up con l'indicazione temporale dei festival che consegneremo ad ogni referente dei festival e uno stand con materiale pubblicitario. Il progetto ha il sostegno della regione perché la regione toscana, con la nuova legge della cultura, si deve occupare anche di libri, di editoria e di pubblicizzare tutto quello che ruota intorno al libro. Io sono funzionario del servizio cultura, quindi il merito va alla mia amministrazione, all'assessore che ha creduto in questo progetto, però la nostra idea è quella di proprio veicolare il turismo, i luoghi in cui si svolgono i festival del libro, perché anche il libro non è vero che con la cultura non si mangia, con il torno al libro si possono creare tante iniziative che hanno una ricaduta economica sui territori.